a che non lo giro mamma mia ben damaggio la signora ue ue non troppo vicino a mamma dire sono la mia non 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 ma c'est au téléphone il no se sapale hi tech i tech si è roba moderna i technologi spiega da dove saluta ai tuoi figli e saluta hello tuo bar da soul me raccomandano è si è molto l'alto non dalle anni sono l'alto